RS Black Traction permette di togliere l'ossido dall'alluminio. Differentemente da molte creme specifiche solo per la pulizia, successivamente viene assorbito dall'alluminio e lo protegge dalla formazione di ossido e dall'assorbimento di agenti macchianti, con la più lunga durata di tempo attualmente possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.